Dopo l'Aquila, da oggi attiva anche a Chieti e a Teramo, U-Pol, la nuova app della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimonio o si è venuti a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti. U-Pol nasce per consentire ad ogni cittadino di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio della qualità della vita. La Polizia di Stato, con U-Pol, desidera coinvolgere gli adolescenti e responsabilizzarli sul rifiuto del consumo della droga e di ogni forma di violenza. L'utente avrà anche la possibilità di effettuare chiamate di emergenza utilizzando un pulsante ben visibile di colore rosso verso la sala operativa della provincia nella quale si trova. Dall'avvio del progetto ad oggi, download effettuati sono stati più di 118.000 le segnalazioni per casi di bullismo, 1.152 quelle per uso di sostanze stupefacenti, 2.132 per un totale di circa 3.283 segnalazioni. Questa mattina nell'Istituto Galliani d'Esterlich di Chieti c'è stato un incontro con gli agenti della Polizia per spiegare agli studenti l'uso di U-Pol. È una forma di sicurezza partecipata perché consente alla comunità di essere parte integrante del sistema sicurezza del proprio luogo sociale e di tutelare i propri spazi sociali e le proprie affettività e quindi stimolare la partecipazione dei cittadini per concorrere al sistema sicurezza. è un sistema che funziona se c'è collaborazione tra i cittadini, è un sistema che può dare maggiori margini di sicurezza e la partecipazione della comunità costituisce una forte controspinta alla spinta criminosa dei malviventi.